Non ha dato consenso a nessuno? Benissimo. Un consenso per me. Allora a questo punto tutti i concorrenti hanno un consenso per uno. Maurizio. Maurizio ha un consenso. Chi dà un altro consenso a Maurizio? Maurizio ha un consenso. Roberta ha un consenso. Chi dà un altro consenso? Nessuno? Antonio, questo viaggio di notte. Chi dà un altro consenso? Uno per uno. 57 secondi. Vogliono due consensi per me. Non tutti insieme, signor. Non tutti insieme, signor. 30 secondi. Non tre ma cause. Diciamo che c'è una causa che comprenderà più persone. La mia comprenderà più persone. Anche la mia. Non metti in tre secondi. Sì, però. 20 secondi. Di fare qualcosa. Non metto in qualsiasi. 16 secondi. 15 secondi. Consenso. Allora. Chi dà un... Com'è? Perché è a Maurizio. Da un altro voto da Maurizio? 2 voti per Maurizio. A questo punto 7 secondi dalla fine di due voti. Maurizio il virtuale vince per le 4 secondi. 3 secondi. 1,2,3,2... Quanto è la mia faccia per me? Quanto è la gu Mina Mio? Perché dobbiamo compiere un'altra operazione. Sciogna vedere come stanno le cose. L'altra operazione è questa. Come ci ha già detto prima. Arturini. Cap't'uscal esos itensi.